Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, stavolta avrete un ruolo fondamentale nel canale. Ho deciso di rimandare la serie sulla mod di Doom, chiamata Sight, perché quella richiede veramente tanto 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 allenamento, e di provare a vedere il risponso che mi date sotto questo video. Credo di avere un pubblico abbastanza maturo per fare questo tipo di sondaggio. Quindi, ecco che ho raggruppato le tre richieste che mi fate incessantemente da quando ho aperto il canale. Premetto che il vincitore di questo sondaggio verrà trattato immediatamente, mentre per gli altri ci sarà tempo, ma che non andranno ovviamente dimenticati. Ecco quindi la lista delle tre scelte di serie che potreste avere nell'immediato futuro. Mi raccomando, votate secondo i vostri gusti e non secondo quello che vorreste far giocare a me. Numero 1 Duke Nukem 3D FPS leggendario, a mio parere, che ha compiuto 20 anni il 29 gennaio 2016 e che appunto molto recentemente ha rilasciato una sua novissima incarnazione con la Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Non credo di dover dare tantissime spiegazioni su Duke. È uno stereotipo di protagonisti dei film di azione degli anni 90. È un personaggio molto attivo all'interno del gioco, a cui piace commentare ciò che vede e ciò che fa e soprattutto c'è l'elemento soft porn. Ovvero, qualche volta ci scappa qualche capezzolo femminile su schermo, ma spero di non dover censurare perché non sono neanche renderizzati benissimo. La trama di Duke è semplicissima. Degli alieni invadono la Terra e rapiscono tutte le donne per potersi riprodurre e sarà a noi uccidere i loro capi e sventare questa minaccia. Lo so, già la premessa è strana. Duke però è un titolo molto particolare e divertente perché permette un'interazione mai vista in un FPS fino ad allora. Grazie alle mappe di gioco e grazie all'engine di gioco, il build engine, potete far saltare in aria muri, palazzi e le mappe sono completamente in 3D. Bene, passiamo al secondo titolo. La seconda scelta ricade sul gioco che ha dato inizio all'FPS moderno di come lo conosciamo oggi e che anche esso ha compiuto 20 anni da poco e anche esso ha le mappe totalmente in 3D. Quake Quake è indiscutibilmente il canto del cigno della id Software classica. In seguito allo sviluppo di questo titolo, infatti, John Romero lasciò id per proseguire la sua carriera da sviluppatore indipendente. Curiosamente, Quake è nato anche esso da una partita di D&D, così come Doom, dove era presente il martello Mjolnir, conosciuto come il martello di Thor. Ebbene, si tratta di un FPS con protagonista silenzioso che deve sventare la minaccia di una creatura appunto chiamata Quake, che sta usando un sistema di teletrasporti per infiltrarsi sulla Terra, preparandosi a scatenare il suo esercito nella conquista dell'intero globo. Noi impersoniamo il protagonista, che è il miglior combattente a disposizione dei marini terrestri. La trama vi ricorda niente? Sì, a grandi linee è molto simile a quella di Doom. Ma credetemi quando dico che il gioco è completamente diverso. Esso sembra partorito da un incubo. Orrori malati ci daranno la caccia, mentre viaggeremo in tante dimensioni diverse, e noi, armati solo del nostro arsenale, dobbiamo rispedire questi demoni da dove sono venuti. Ci tengo a precisare due cose prima di iniziare la serie, però. La prima è che a causa di una band russa, così come è accaduto per Quake 2, che ha fatto le cover di tutte le canzioni di Quake, non posso proprio mettere in sottofondo le colonne sonore ambientali create ad hoc da Trent Reznor, il frontman della band chiamata Nine Inch Nails. E la seconda è che sarà una serie in blind run, perché ho giocato la versione shareware del primo episodio quando uscì, ma non ho mai, mai, mai giocato il gioco completo. Per cui, volendo provare tutte le mappe, l'unica cosa di cui mi farò spoiler, se volete, saranno gli ingressi segreti. Passiamo al terzo gioco. Come terzo gioco, ma non meno importante, c'è l'ultimo capitolo di Doom che dobbiamo trattare. Doom 64. Gioco inizialmente pubblicato su Nintendo 64, che però non è mai arrivato decentemente su PC. Fino ad adesso, però. Ebbene, grazie alla mod fedelissima uscita recentemente, chiamata Doom 64 Retribution, posso finalmente affermarvi che questo gioco è stato traslato perfettamente anche su PC. Ci tengo infatti a precisare che anche questa serie sarà completamente in blind, e lo stesso discorso dei livelli segreti fatto per Quake varrà anche qui. Per vedere tutte le mappe, mi spoilererò soltanto gli ingressi segreti. Doom 64 ha un'architettura completamente diversa da tutti gli altri Doom, perché per tinte, toni e musiche è molto simile a PlayStation Doom. Però, mi è stato detto da alcuni di voi che le mappe sono ancora più labirintiche dei Doom classici. Quindi occhio, eh? Detto questo, ora vi farò comparire il sondaggio in alto a destra. Ci tengo a specificare che le regole del sondaggio sono queste. Dopo una settimana aprirò le urne per vedere quale gioco ha ricevuto più voti, e poi ne darò l'annuncio. Di conseguenza il vincitore sarà annunciato per farne una serie. In caso di pareggio, però, ci sarà un altro video dove ci andrà ad eliminazione diretta, e se nel caso anche questo risultasse in pareggio, deciderò personalmente quale serie trattare prima. Ora tocca a voi, ragazzi. Votate e scrivetemi nei commenti cosa avete votato e perché. Ci sentiamo alla settimana prossima.